Quest'anno abbiamo dedicato il corso al tema di bioetica, morte e mortalità. Abbiamo invitato gli esperti di varie parti del mondo e abbiamo avuto un evento speciale. La presentazione del nostro libro Enhancement Fit for Humanity, un altro evento speciale, si chiama Supermarket Babies. Quindi una mostra dove ognuno può scegliere le caratteristiche del proprio bambino. Cosa significa per il futuro, cosa significa per la razza umana, cosa significa per noi, per ognuno lo faremo, no? Le tre parole che userei per descrivere il corso sono motivante, stimolante e arricchente. Appassionante, interdisciplinare e comprensivo. Sono state fatte riflessioni su questioni bioetica, morte e mortalità. Significa toccare uno dei punti cruciali della cultura contemporanea. Perché in effetti noi ci troviamo di fronte ad una condizione di esculturazione della morte dal contesto umano. Cioè della morte non si parla. In realtà è indispensabile tornare a parlarne. Legandola ovviamente a quella che è il suo contesto, ossia il nascere, il vivere e il morire. Quindi speriamo di, nei prossimi anni, prendere tutta la versione di questo anno e poi offrire al mondo un altro libro sul tema di morte, immortalità e bioetica.